salve a tutti amici di youtube benvenuti in questo nuovo video studio division 2 oggi torniamo a parlare di build e ve ne volevo proporre quattro sia per il pvp sia per il pwe partiamo subito da quelle che uso io per il pvp e infatti nella fattispecie per il conflitto essendo tutte build full dps partiamo dalla prima che è questa qui con ultra pericoloso come specializzazione utilizzo il fucile tac per vari motivi il primo è che ovviamente abbiamo una stabilità è un rinculo ridotto dell'arma del 15 per cento è una riacquisizione più rapida dei bersagli il secondo motivo è il kit perché rimuove gli effetti di stato che in una build ultra pericolosa anche un sanguinamento è quasi fatale e in più aumenta i danni da colpo alla testa utilizzando un fucile o un fucile di precisione vabbè in più ho attivato anche il danno del fucile di precisione aumentato e quindi vabbè tutti i vari bonus che sappiamo come i membri del gruppo ottengono il 10 per cento di danni colpa alla testa eccetera 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 però i motivi principali sono quelli detti all'inizio andiamo a vedere com'è composta la build come una delle armi che utilizzo è il nemesis ovviamente per ovvi motivi è una dell'arma diciamo principale della build in quanto con ultra pericoloso non è che ti puoi esporre più di tanto quindi cerco di stare quanto più possibile coperto per cercare di check inare i miei avversari seconda arma una delle fucili d'assalto a mio avviso migliore del gioco il fall con questo è il cappato insomma praticamente cappato con sincronizzato che è uno dei talenti appunto anche più forti del gioco come ho impostato la build abbastanza semplice comporre una build del genere ovviamente i due pezzi nominali non possono mai mancare come il guanto del mercenario e le ginocchiere della preghiera del soldato tutte impostate su danni arma e danni critici una maschera del coyote anch'essa immancabile a mio avviso in una build full dps in quanto ai bonus abbiamo i vari bonus che si attivano all'occorrenza e che quindi ci boosterano i danni critici e la probabilità di critico nella fattispecie dai 0 ai 15 metri abbiamo il 25% di danno critico tra i 15-25 metri il 10% di danno critico il 10% di probabilità e oltre 25 metri la probabilità pura inoltre da un boost a tutta la squadra quindi aiuta anche il tipo giubbotto della fendris con ultra pericoloso anch'esso girato tutto su danni arma probabilità e danno critico zaino della sesca vi roba con vigilanza anch'esso completamente rosso e la sesca perché ci dà la probabilità di critico del 10% utilizzando un solo pezzo infine utilizzo una fondina della gruppo sombra anch'essa completamente volta all'attacco per il bonus dei danni critici andiamo a vedere le statistiche che abbiamo con la b con il nemesi abbiamo il 50% quasi il 51% di probabilità di critico quasi il 170% di danni critici i danni colpo alla testa del 191% e danni alla corazza dell'8% con il fall abbiamo una probabilità leggermente più alta e gli stessi danni critici con i danni alla corazza anch'essi all'8% ovviamente questi danni critici devono essere aggiunti quelli della maschera che possono essere il 10 per cento o il 25 per cento quindi arrivando al 179 per cento con il 10 per cento e a oltre il 190 per cento se abbiamo il bus del 25 per cento andiamo a vedere la seconda build che utilizzo che è una build che ho già riproposto ma che ho rivisitato quella ovvero con osservature dal mio vecchio video l'avevo impostato leggermente diversa la build con due pezzi walk and ci ho rinunciato per aumentare il critico perché ho visto che mi trovo meglio come specializzazione utilizzo quello del missilista ovviamente per il motivo per il quale è il abbiamo l'accessorio sotto canna che traccia automaticamente i nostri avversari e quindi gli da impulso in modo tale da attivare il talento osservatore che in questo caso è ricaduto su un giubbotto della fenris anch'esso votato all'attacco maschera russa anche qui la del coyote con grazie a causa del talento istinto di branco fondina nella gruppo sombra zaino ancora quello di prima nella sesca che devo cappare e in questo caso abbiamo due pezzi votati su corazza che sono il guanto del mercenario e le ginocchiere della preghiera del soldato le armi che utilizzo sono sempre il solito falcon ranger e un carabina 7 stavolta non il falcon sincronizzato qui utilizzo lo scudo e il drone mentre invece nell'altra build utilizzavo il drone scansionatore e la la mina a ricerca quindi leggermente diverso perché uso il drone perché il drone ogni volta che va a colpire un avversario e quindi a far danno mi si attiva il sincronizzato che mi consente quindi di avere sempre il boost del 30 per cento sul carabina 7 sia utilizzando il drone sia aprendo lo scudo ovviamente il carabina 7 lo uso per gli scontri da vicino principalmente utilizzo quest'arma perché con un milione e cento di corazza riesco anche a usciare leggermente se è un buon team che mi supporta perché ho scelto un milione e cento di corazza a causa della della perché non ho ovviamente l'invincibile e quindi una volta finita la corazza sono fregato quindi ho scelto di stare leggermente safe quindi avere un po più di corazza rinunciare a qualche danno arma però comunque è compensato da sia dal sincronizzato o da ranger e ovviamente da talento osservatore andiamo a vedere le statistiche e arrivo con il fall a 100 a 157 per cento dei danni critici e una probabilità di critico del 54 e 2 la stessa cosa con il carabina 7 posso ancora migliorare ovviamente il il critico e la probabilità andiamo a vedere ora la terza build da pvp che utilizzo che è questa qui praticamente è uguale a quella proposta prima con ultra pericoloso ma come specializzazione in questo caso utilizzo il fireball perché qui mi è capitato utilizzando invincibile magari se ti pushano un po di più gli avversari con lo scudo aggressore del fireball riesce a fargli ancora ancora molto più danno quindi ho optato per il fireball e anche perché per il solito kit medico che ti pristina il 200 per cento di corazza e salute non per altro quindi andiamo a vedere come è fatta la build anche qui utilizzo il fall con sincronizzato sempre per lo stesso motivo e anch'esso è come seconda arma anche qui utilizzo il nemesine anche se non è il boost del fucile di precisione ma comunque riesco a one shotare un player quando mi entro il critico i pezzi sono gli stessi che abbiamo visto prima quindi zaino della sesca guanto del mercenario ginocchiere overlords fondina della gruppo sombra maschera del coyote e l'unico pezzo che cambia cambia il talento e questo qui della frenzies gruppo con invincibile e abilità abbiamo detto lo scudo aggressore e anche qui il drone aggressore per il stesso motivo di prima ovvero perché con il fall abbiamo quasi sempre il sincronizzato attivo e in più il drone in differenza della mina ricerca se si fissa su un obiettivo ammazza magari il player che viene buttato giù con il nemesine da dietro al riparo viene confermato e poi ucciso per ora la build full dps da pvp è quella del raid utilizzo come specializzazione quello del balestriere perché sia per fare il razorback sia quindi allo step finale del primo ride e allo step finale del secondo ride le munizioni della balestra sono molto utili per il primo ride per rompere le scatoline del razorback quando si deve far danno ai componenti nel secondo ride invece sparando un colpo di balestra e ciccioni per prendere la chiavi le chiavi vanno giù molto più facile quindi per questo motivo qui andiamo a vedere come arma primaria utilizzo legal biret che per il p2 fucile d'assalto migliore del gioco l'arma secondaria all m1 a classico imprescindibile di p2 solo che è allen e ride andiamo a vedere come è composta la build con i tre pezzi providence un pezzo ci è dato ogni colpo alla testa 2 probabilità e 3 danno critico tutto girato ovviamente su danno arma la probabilità di critico e danno 15 posso utilizzare sul busto invincibile in quasi tutto il ride però in altre fasi del ride dove c'è bisogno di tanto tanto danno come la prima fase del secondo ride utilizzo il sacrificio con assolutamente ultra pericoloso per massimizzare i danni all'estremo zaino della providence con vigilanza se avete il dono cappato che benvenga io purtroppo non ce l'ho quindi ovviamente vigilanza per aumentare i danni sembrate più terzo pezzo della providence io ho optato per una fondina ginocchiere della overlord per avere il danno al bersaglio fuori dal riparo ma in questo caso potete anche optare per una ginocchiera diversa magari utilizzare una ginocchiera della gruppo sombra e utilizzare la maschera russa del coyote che ora non ho in inventario per massim per dare il busto al team quanto della fantasy in pwe non è tanto importante fare i danni alla corazza e danni al bersaglio fuori dal riparo perché se uccidiamo un mob due secondi dopo a mio avviso non è tutta questa gravità della cosa come per esempio può essere fondamentale io utilizzo le ginocchiere dell'overlord delle brigate del soldato in quanto utilizzando anche l'M1 classico vado a pennello quindi per me questa configurazione è ottima poi se nel team fosse richiesta utilizzare una maschera rossa via la gruppo sombra e dentro la maschera del coyote come abilità utilizzo un alveare rianimatore perché nei raid si va giù non dico spesso però può capitare e come altre abilità utilizzo un'esca però dipende sempre dalla fase del raid però principalmente dell'esca bene ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto e ci vediamo alla prossima ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti